Giulia Delellis paparazzata in un ristorante con il cantante di Amici di Maria De Filippi, il Rama. Lei e Filippo Maria, questo il suo vero nome, sarebbero molto vicini e per questo sarebbero anche riusciti a convincere i più scettici che una vita oltre Andrea Damante è possibile. La Delellis, infatti, si è lasciata da pochi mesi con il suo ex storico e, dopo le foto Otim Barca della scorsa estate, non è mai più stata avvistata con lui, ne ha mai rivelato di avere un'altra relazione ufficiale. Il sito Spisee ha pubblicato le foto di questa paparazzata in pubblico, svelando la vicinanza tra la nota fashion blogger e la voce del noto talent di Canale 5. Nessuno dei due si è espresso sull'avvistamento e sulla palese vicinanza dei loro volti, a un passo da un bacio vero e proprio. Si vociferava da mesi che Giulia Delellis potesse avere una nuova relazione ma non era mai stata resa pubblica nessuna indiscrezione. Il suo attaccamento ad Andrea Damante sembrava essere ancora forte, finché a settembre entrambi hanno precisato che le foto scattate in barca non potevano essere la dimostrazione di una storia d'amore ancora in corso. Erano complici e consapevoli di aver voluto trascorrere del tempo insieme, ma a quanto pare niente di più. Giulia Delellis si era anche di recente espressa sull'ipotesi di un nuovo fidanzato, dichiarando di volerlo sincero e rispettoso e inviando forse così un messaggio al vetriolo al suo ex. Quest'ultimo, alla fine di agosto, sarebbe stato avvistato a sua volta con una bella mora di nome Sharon Filograsso, con la quale però non c'è stato alcun seguito se non fugaci pettegolezzi in quel di Formentera, dove d'altronde i rumors sono all'ordine del giorno. Chi se ne frega.